Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Tappeti Tappeto Kashmir Puri di Seta. Lavorazione, annodato a mano. Spessore circa, 6 mm. Pelo, seta. Ordito, cotone. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, Clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.